C'è posta per te, grande sorpresa per Marta, chiamata nel programma dal papà. Grandi emozioni per il pubblico con la storia di Marta e del papà Sergio. È quest'ultimo a chiamare il programma, vuole farsi perdonare dalle figlie perché dopo la morte della moglie Ivana si è trovato solo a crescerle e spesso si è sentito inadeguato. L'uomo crede di averle trascurate e di aver pensato solo alla moglie e al lavoro. L'uomo vuole fare un regalo alla figlia Marta, da quando lei non c'è più mi sento inadeguato, ho paura di sbagliare con voi. Sono qui per chiederti scusa del fatto che magari in quel periodo vi ho trascurato, non vi ho abbracciato abbastanza perché ero troppo concentrato sulla mamma. Voglio spazzarvi via il dolore e regalarvi tanti sorrisi. Ho due figlie che sono migliori di me e sono orgoglioso di dirlo. Un grazie a te per insegnarmi che tanto vale stare sulla terra con il sorriso. Voi siete tutto quello che ho di più speciale al mondo. La sorpresa è Michele Morrone, protagonista della saga 365 giorni, che ha voluto fare alcuni regali a Marta per la quale lui rappresenta un idolo. Mi sono molto affezionato alla tua storia, ha spiegato l'attore, ho una storia simile a quella di tuo padre. Anche io vedo ogni tanto i miei bambini che abitano in Libano, anche io ho un rapporto a distanza con loro. Capisco tuo padre. Sono qui perché mi fa piacere conoscerti e mi piacerebbe regalarti qualcosa, che a me ha portato molta fortuna. Michele Morrone fa due regali, il copione originale del suo film con una dedica e un cestino di ciliegie con un bigliettino speciale e inoltre un aiuto per il suo percorso universitario a Messina. Poi l'attore scherza, so che tuo padre è geloso, è siciliano. E Sergio invita Michele ad allontanarsi dalla figlia. Ovviamente il clima è sereno e ironico. Michele Morrone dice al padre di Marta, bella, educata, capisco perché sei geloso, scherza Morrone con l'uomo. Ti prometto che non sarò più geloso, risponde Sergio, ti manderò una sera a ballare a Catania, solo se attivi la geolocalizzazione. Alla fine Marta ha aperto la busta e ha abbracciato il papà. Una storia a lieto fine che riscalda il cuore. perderti nuovi video.